Riccardo Bartolotti, artista fotografo e autore letterario, ricercatore di usi e costumi prevalentemente della Valdera e del Valdarno. Ogni cambiamento diventa nel tempo radice del cambiamento successivo, per cui ha il prezioso valore e merito della consapevolezza di chi si trova a guardare dove appoggia i propri piedi. Ieri porta oggi come oggi porta domani, il tempo sempre nuovo è sempre uguale a cui l'uomo ha matematicamente attribuito una misura. Le foglie vivono se c'è una radice e il loro come è ancora in diretto rapporto con essa. L'arte è il linguaggio universale dei sensi. L'uomo è ricchissimo di sensi. Possano queste opere parlare ad essi così da far sentire a tutti i piedi come di camminare sulla radice della vita, essere foglie fresche a elaborare la linfa. Grazie alla luce, al sole, al tempo, al fusto e alle radici che sono l'oggi e l'ieri e vogliono che il domani le foglie siano verdi e siano felici.